Che brutta fine che hanno fatto alcuni idol proprio anche per mancanza di privacy Essendo un personaggio del web la privacy ha un significato relativo Dovrei fare coming out perché sarebbe l'unica cosa utile nel mio lavoro Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Allora questo sarà un video, non penso troppo lungo Però volevo parlare di alcune cose che mi sono successe in questo ultimo periodo Perché diciamo che da quando ho fatto uscire il video vi presento la mia ragazza platonica In cui comunque già nel titolo c'era scritto platonica vuol dire che non siamo realmente insieme Tuttavia questo non ha fermato molte persone da speculare sul fatto che io e Miriam stessimo veramente insieme Io in realtà gliel'ho anche detto, gli ho detto guarda se vivessimo un po' più vicini probabilmente ti chiederei di uscire Però sfortunatamente vivendolo all'altra parte del mondo non è possibile Quindi in questo momento no, io e Miriam non siamo fidanzati Tuttavia perché vi sto parlando di questo argomento? Perché c'è stato uno sviluppo su tutta questa storia che ha un che di incredibile Perché ci sono state delle persone che su Twitter mi hanno scritto Ma come non sei gay? Perché stai con Miriam? Non è possibile Il che mi ha fatto un po' sorridere e allora ho deciso che è arrivato il momento finalmente di farvi il video con questo topic Prendetevi comodi perché ci vorrò un po' Perché prima di parlare di questo argomento vorrei anche fare un po' di education Perché c'è un sassolino che mi è rimasto in questa scarpa che ho sempre voluto togliere Però non ho mai avuto occasione e poi ho iniziato a voler lasciare perdere Però è arrivato il momento in cui ho detto vabbè Insomma una cosa importante è una cosa che secondo me potrebbe aiutare altre persone E quindi mi va di parlarne Io sono andato a chiedere a queste persone che mi hanno contattato su Instagram Dicendo ma io non ho mai detto questa cosa online Dov'è che hai sentito che io sarei gay o meno? Cioè non che ci sia niente di male però per curiosità mi ero interessato Tutte e due questi utenti diversi mi hanno indicato un utente che non farò il nome Quel nick mi ha ricordato un vecchio commento che avevo visto su questo utente Quindi dico cavolo ma questa persona sta ancora andando dietro a dire cose su di me Oppure queste persone si devono essere basate su quello che lei aveva detto 5 mesi prima Io mi sembra, adesso non ricordo le date usate Però un 6 mesi fa avevo fatto un video con un titolo un po' provocatorio In cui dicevo anche i cessi rimorchiano in Giappone Un titolo comunque che voleva attirare l'attenzione E anche perché era un titolo critica nel senso Era un titolo in cui poi dopo io nel video andavo ad argomentare Quello che poi avrei voluto dire Il fatto che comunque non pensate che necessariamente un ragazzo Che per gli standard italiani sia considerato non attraente Non lo sia per i giapponesi Perché comunque secondo me la bellezza non solo cambia in base a periodi Magari 10 anni fa un ragazzo che era considerato bello Non necessariamente lo ha adesso O magari tra 20 anni un ragazzo che non è bello adesso Lo può essere magari nella prossima generazione E soprattutto non è detto che uno standard di bellezza che c'è in un paese Deva essere così anche all'estero Vi faccio un esempio Per esempio gli italiani piace la bronzatura In linea di massima è comunque molto apprezzata Mentre in Asia lo è molto meno nella maggior parte dei casi Quindi capite anche solo per questo discorso Comunque che cosa è successo? Avevo condiviso questo video Siccome era comunque un bel messaggio E trattava di Giappone In vari, beh in vari In due o tre gruppi sul Giappone Perché ho detto comunque si tratta di dare informazioni sul Giappone Che possono essere utili a altre persone interessate al Giappone Quindi mi faceva piacere condividere Questa mia conoscenza su questo argomento Anche un video abbastanza leggero Perché non è che dicessi chissà che grandi verità Tuttavia il creatore comunque di questo gruppo Si è molto offeso E ha praticamente fatto questo post sul suo gruppo Dicendo tantissime cose su di me E comunque decontestualizzando il mio video Perché comunque lui diceva che in questo video Praticamente io parlavo di un cesso Mettendo un tanto di foto Dicendo che questa persona è un cesso Quando io comunque ho preso un attore Che è anche attraente In un contesto comunque completamente diverso Da quello in cui l'ha fatto passare In questo suo post Perché io comunque dicevo che Che ci sono dei cessi Veramente cessi Questo era il pezzo del video Ma io prendevo un screenshot di un film In cui lui faceva la parte del cesso se volete Perché comunque era il ragazzo sfigato Che si vestiva male Che non sapeva rimorchiare le ragazze Quindi capite Era un discorso ben più complicato Non è che avessi detto Questo ragazzo è necessariamente brutto Oggettivamente per chi lo guarda Io ho preso un personaggio fittizio Che interpreta la parte dello sfigato Dicendo che è un cesso Però ho capito Era contestualizzato Ho capito Era come sembrava da questo commento Vi lascio il commento Se volete fermate Leggetevelo con calma Non sto qui a leggerlo Perché è troppo lungo Quindi capite E lui l'ha messo a paragone Con un commento che io avevo fatto Su praticamente una foto Che girava sul suo gruppo Senza dire niente Perché girava questa foto Di questi due ragazzi Un ragazzo e una ragazza Che erano Miss e Mister Giappone College E io ho detto che Adesso non ricordo il post preciso Ma ve lo metto qui Perché poi l'ho trovato su Facebook Dicendo che mi faceva triste Che c'erano questi commenti Così diffamatori Su queste persone Dire sono due Miss Oppure bruttarelle Lui è carino ma lei Capito Sono delle cose Diciamo Lì non si sta offendendo Comunque un personaggio fittizio Che voi andate a prendere un personaggio Cioè capite Loro sono andati proprio a offendere la persona Quindi era un discorso molto diverso Poi definire un ragazzo Comunque una Miss Solamente perché Non è Non ha la barba Magari come gli italiani Adesso non so Quali fossero i suoi canoni Per definire Questo ragazzo Una Miss Però capite Era molto contestualizzato E molto attuale Perché io mi batto sempre Per questi topic Quindi mi ha dato fastidio Che fosse stato preso Questo mio video E fossero stati Dite queste cose Molto stupide Al riguardo De contestualizzandole E poi tra l'altro Io se avesse pensato Che le due cose Fossero Un comportamento ipocrita Adesso non ricordo Le esatte parole Perché ha detto lui Non le avrei messe nel video Perché io proprio In quello stesso video Ho ripreso Queste immagini Di questi commenti Quindi era proprio per dire Che in Giappone Si valuta altre cose Oltre all'aspetto fisico E non ci si ferma Spesso Solo all'aspetto fisico Vi posso far vedere Il video Comunque non so Chi se lo ricorda Però dicevo Che in Giappone Per esempio Un ragazzo Che va bene a scuola È spesso considerato Attraente Anche se magari Fisicamente Non lo è necessariamente Però è comunque Una virtù Che va pari a passo Per la bellezza Non so se qualcuno Ha visto Le situazioni Di lui e lei Il protagonista Arima Che era si bello Ma anche bravissimo A scuola E la gente L'apprezzava Per entrambe le cose Mentre in Italia Spesso Quelli che vanno bravi A scuola Sono visti Come dei secchioni Quindi meno attraenti Magari di un ragazzo Che non fa ste cose Quindi diciamo Che è un discorso Un po' diverso Però La cosa che mi ha fatto Strano Diciamo Di tutto questo commento Tornando a questo messaggio Originale È che c'era scritto Che lui Tutti i commenti omofobi Le persone omofobe Le eliminava da Questo suo gruppo E che le moderava Il che è un comportamento Veramente Che gli fa onora A questa persona Se realmente Lo mettesse in pratica Però E poi è andato A una a una A dirmi che le persone Che io ho detto Che hanno detto Dei commenti omofobi Che poi io non ho usato Le parole Cioè guardate il mio commento Io comunque Se tu hai un ragazzo Se sai che è mister giappone Gli vai a dire Che bella miss Magari la persona Che ha detto questa cosa Non è omofoba Però questo commento Lo è E sinceramente Una persona Che fa commenti omofobi Non sarà magari Una persona omofoba Perché poi ci sono Vari livelli di omofobia Però questa È una forma di omofobia Secondo me Poi ci sarà Chi la pensa In modo diverso Se la pensate In modo diverso Scrivetemelo nei commenti Quello che dico io Non è legge Però capite In ogni caso Con questa persona Poi ci siamo chiariti In realtà aveva veramente Mal interpretato La mia persona Tutto quello che aveva detto Penso che avesse Delle insicurezze sue Che le ha fatte Traspirare In quel commento Però non è assolutamente Una persona cattiva Anzi sembra anche Una persona simpatica Però mi ha dato quasi Del deficiente Dell'inesperto Che dico Cioè se mi conosci Sai che sono uno Che non è Nessuna di queste cose Che tu hai detto Non è che io Ho inserito Quella foto Perché sono una persona Inesperta Comunque è un insulto Al mio lavoro E quello che faccio Su youtube Quindi cioè Non me la sono presa Perché non me la prendo Però te lo faccio notare Adesso perché Visto che siamo Nel discorso Lui ha detto Che monitorava Le persone omofobe Però sotto questo commento Sono arrivati Questi commenti Di quest'utente Che mi ha scritto Di quelle cose Che non stavano Né in cielo Nel terra Vi condivido Gli screenshot Non li vado a leggere Perché voglio girare Questo video Abbastanza velocemente Se volete Fermate il video E leggeteveli Comunque in sostanza Questo utente Mi ha detto Che forse aveva capito Di chi si trattasse Perché almeno L'altro utente Ha avuto la decenza Di non fare il mio nome E che avevamo Una grandissima amica In comune Allora io Penso di aver capito Chi è questa grandissima Amica in comune Non l'ho contattata Per fare questo video Perché tanto Non nominerò Il nome di questa ragazza In ogni caso Che cosa è successo Questa ragazza Diceva Che dirà A questa sua amica Di non trattarmi Da divo E che sono un cretinetti Che già lì Dice vabbè E io Penso che chiunque Dei miei amici Sa che Non ho mai richiesto Un trattamento da divo Se qualcuno Mi tratta da divo Anzi probabilmente Mi scosto Perché non riesco A avere un'amicizia Ma poi Da divo perché Scusa Io ho fatto Un sacco di cose E non mi sembra Di essermi mai Vantato Anzi me ne sono quasi Vergognato Quando dicevo Facevo il modello Lo dicevo sottovoce Per dire Vogliavo qua Non è che mi vergognassi Di quello che facevo Ma avevo paura Che la gente Mi squadrasse Dalla testa ai piedi E dicesse Certo che sei proprio Una patata Un cesso basso Per fare il modello Quindi proprio io Che mi vanto Che faccio il divo Per le minchiate Che faccio Lo trovo veramente Una cosa stupida E che non faccio Quindi anche lì Diciamo che c'è stato Un po' di Si vede che non mi conosci Diciamo In ogni caso La parte più interessante È che poi dopo Ha risposto Dicendo Ah sì Ho capito chi è E dicendo che Praticamente ero io E ha fatto notare Che ne so io Di come ci si rapporta Con le ragazze E poi Che vorrebbe vedere Una foto mia Di quando Dieci anni fa Per vedere Come ero diverso E che mi sono rifatto Tutto E che sono un bugiardo Mi sono rifatto le labbra Allora Io non ho mai avuto Bisogno di rifarmi Ma anche se mi fossi rifatto Chi sei tu Cavolo ne sai te Cioè Non mi conosci Come fare a sapere Se sono rifatto o meno Io in ogni caso Questo pezzo L'ho preso come Un complimento Se vuoi vedere Come ero Dieci anni fa Non mi sembra Di essere cambiato Poi tanto Ero un po' più magro Ero un po' più gnocco Forse dieci anni fa Ma ancora Penso di tirare avanti Piuttosto bene E però La cosa che mi ha fatto fastidio È stata questa cosa Del dire Che non posso Parlare Di ragazze Perché non Ne conosco niente Vabbè Ma neanche lì Io non mi sono offeso E addirittura Sono andato a rispondere Sotto il commento Dicendo Guarda In realtà Ho avuto due ragazze La cui relazione Che avevamo Era comunque pubblica Tutti i nostri amici Io sono andato a incontrare I genitori di lei Lei è venuta a incontrare I miei genitori Comunque anche sul web Magari non era ovvio a tutti Ma quasi tutti E sapevano Che erano le mie ultime due ragazze Cioè Non è che fosse un segreto Però Cioè Io appunto Io ho scritto così Ma Io ho detto Cioè Che ne sai te Se sono gay o meno Non che ci sia niente di male Però Puoi pensare Che sono etero Se ho parlato Di due ragazze Però Non ha molto senso Sta cosa Però diciamo Che tutto questo comportamento Non mi è piaciuto Perché È veramente un comportamento Da bulla Allora dopo che io le ho scritto Che comunque sono stato Con due ragazze Semi pubbliche Quindi che cosa ne sa Allora lei A quel commento Mi ha risposto Vi lascio sempre qua I commenti Leggeteli Non mi ricordo Adesso se dirò Le parole esatte Comunque potete confrontare Quello che io dico Con quello che lei ha scritto Quindi Leggeteli E ascoltate Quello che dico E se dico qualcosa Che non è esattamente Uguale a quello che ha detto Comunque sapete Che il grosso Sarà quello Comunque lei Sostanzialmente ha detto Che lei ha tanti amici Che sono gay Ma che sono stati Anche con ragazze E io ho detto Vabbè Buon per te Se conosci amici Che tu hai amici Che sono gay Che sono stati Anche con ragazze Però non è il mio caso Cioè E veramente Anche te Andare a insinuare Queste cose È una cosa poco carina Da dire E poi tra l'altro Ho avuto anche il coraggio Di dire che Dovrei fare coming out Perché sarebbe L'unica cosa utile Il mio lavoro Mettendo anche lavoro Tra virgolette Cioè io non capisco Perché il mio lavoro Deve valere di meno Di quello di altre persone Cioè non capisco Il tuo sfidanzato Fa l'illustratore Anche il suo Non è un vero lavoro Cioè non capisco Che cosa si intende Per vero lavoro Cioè io faccio il compositore Mi occupo di film In ogni caso E se tu definisci il mio lavoro Un non lavoro Perché faccio video su Youtube Ti posso assicurare Che in realtà Fare video su Youtube È un lavoro di tutto rispetto Potrei capire Se andassi a criticare Un Logan Paul Definendo il suo lavoro Mettendoci le virgolette Potrei capirlo Non lo sto dicendo io Però ti sto dicendo Che se tu muovessi una critica Nei confronti di un creatore Come lui Potrei capire Però se tu la muovi Nei confronti dei miei Dicendo che il mio Canale Youtube Serve solo E sarebbe utile Soltanto per le persone Che sono dei gay repressi Per poter fare coming out Vedendo mai che lo faccio Ti posso dire Che il mio canale Serve anche Penso a tante altre cose Cioè io credo Che in tutti questi anni Comunque Vabbè sono tantissimi Due anni comunque Che ho fatto Youtube Ho condiviso un sacco Di informazioni di cultura Ho parlato di un sacco Di temi Come l'omofobia Adesso me l'ho ancora Trattato l'anoressia Però ne voglio parlare A breve I problemi mentali Quindi cioè Mi sembra che il mio canale Si occupi di tante questioni Anche molto delicate E importanti Il comportamento invece Che tu hai assunto Comunque con questi commenti Su Facebook È piuttosto vergognoso Sembra proprio Il comportamento Magari di quei bulli Che fanno un ricatto Per dire Guarda che vado a dire Tutti che sei gay Se non stai mai patti E guarda ci sono delle persone Gay che veramente hanno Si sono tolte la vita Per persone così Cioè quindi capito Che il tuo comportamento Se l'avessi fatto Un'altra persona Che magari non ero io Sai benissimo Che non ho mai scritto O detto da nessuna parte Che lo sono E a me sorprende Come la persona Comunque che È moderatore Di questo forum Che ha detto Che lui comunque Gestisce tutti i commenti Non abbia eliminato Quest'utente Se lo ha fatto Magari in questi giorni Ben venga Però nelle settimane successive In cui questo post Era stato scritto Questa persona Non era stata bloccata E lui comunque Nel suo post Faceva tutto Un discorso lunghissimo E lui non ha bloccato Questa persona Quindi ti posso dire Cioè Anche questo discorso Che quest'utente Comunque creatore Di questo gruppo Ha fatto su facebook L'ho trovato Secondo me Non è neanche ipocrita Ma è proprio un po' Non vedo Cioè avere proprio Il prosciutto davanti agli occhi Perché tu vieni a dire a me Che sono inesperto Nel mio lavoro Quando faccio un video Che ovviamente De contestualizzi O non riesci a comprendere Perché magari Non lo so Hai vissuto Una vita diversa Dalla mia Magari non conoscendomi Non hai capito bene Quello che intendessi Però secondo me Quello che quest'utente Stava intendendo E non era nemmeno sottinteso Era proprio esplicito Quello che lei volesse dire Il fatto che io dovessi Assolutamente fare coming out Perché è l'unico modo In cui il mio lavoro Potrebbe essere utile Andando a diffondere Questa voce Non vera Su di me Su di internet È un comportamento Secondo me Sbagliato Che veramente Se non fosse stato io A ricevere queste informazioni Potrebbe avere Comunque dei risvolti Tragici Cioè È una cosa orribile In ogni caso Concludiamo questo video Dicendo che Non mi sono mai posto limiti E quindi Non vedo perché impormeli Adesso Ovviamente Non mi piacciono Le persone ipocrite O ignoranti Ma proprio con quell'ignoranza Che non ha neanche voglia Di voler fare Quel passo in più Per imparare Ecco Questa tipologia di persone Non mi attrae Va bene così Cioè Se non ve ne parlo molto Su Su questo canale È solamente perché Il mio canale Parlava di cultura giapponese Se Adesso vedo che Comunque sto un po' Parlando di vari Altri argomenti E vi interessano Se vedo che Comunque parlarvi un po' Della mia vita privata Vi interessa Ne parlerò di più Ma Sempre Come voglio io Come faccio io E Datemi i miei spazi E i miei tempi Perché questa persona Ha anche detto che Comunque essendo un personaggio Del web La privacy Ha un significato Relativo Che io dico Scusami Ma allora Qualsiasi persona Che scrive Qualsiasi cosa Su internet Dovrebbe avere Una privacy Relativa Cioè Che discorso è Cioè La privacy È comunque Un diritto umano Che devono avere Anche le persone famose Perché guarda Che brutta fine Che hanno fatto Alcuni idol Proprio anche Per mancanza di privacy Quindi questa tua cosa Che hai scritto Orribile Cioè Non capisco Cioè Definiscimi Come Cosa vuol dire Personaggio pubblico Anche se Secondo me Anche i personaggi pubblici Avrebbero bisogno E hanno bisogno Il diritto Di avere privacy Cioè Non capisco Adesso che c'ho 50.000 iscritti Non ho più bisogno Della mia privacy Quando arriverò A 100.000 Dovrò ospitare Le persone in casa Se vogliono venire Cioè Non Trovo una cosa Stupida da dire In ogni caso Devo dire Una cosa stupida Coerente Con tutte le cose Che tu hai scritto Diciamo In quest'uscite Adesso Non so Se tu sei andata Anche a contattare Personalmente persone Per andare a scrivere Puttanate su di me Questo poco Mi importa Io in ogni caso Garantirò La tua privacy In questo post Perché non voglio Abbassarmi Al tuo livello Quindi dirò soltanto Che tu hai diritto Alla tua privacy Come chiunque altro Non condividerò Con te questo video Non so Se questa tua cara amica Che abbiamo in comune Te lo manderà Magari manco Si renderà conto Che sto parlando Di te In ogni caso Se questo video Ti arrivasse Spero che Imparerai a crescere State attenti